Qui Diego Dabber21, salve a tutti, vi do il benvenuto alla settima parte del mio progetto sulle classifiche. Vi ricordate le prime tre in cui vi dicevo i migliori episodi, secondo me, delle 12 stagioni di spoggio dove, secondo me, si è fermata la serie? Proprio, non lo so, non lo so, ho seguito fino lì, ecco. Insomma, vi ricordate quelle prime tre classifiche lì, no? Vi erano piaciute, vero? Benissimo, volete vedere il resto di quelle classifiche? Sì? Bene, allora, questo video, allora, fa per voi. Quindi, noi ci rivediamo alla fine del video. Un cervice a tutti i fan di Dabber21, 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 Buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare. Sì! Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.